Ciao, mi chiamo Andrace Arrato e faccio il Cantoutuber. Forse avrei già sentito, giocando ad un, due, tre, stella, che oltre a scrivere canzoni per allenarmi, mi piace prendere dei grandi successi internazionali e provare a tradurli in italiano, non in maniera letterale ma cercando di preservarne il senso. Il pezzo che sto per eseguirvi me lo chiedete in tanti e me lo chiedete da tanto, ma ho tergiversato, ho temporeggiato perché se seguite il canale sapete che il mio strumento principale è la chitarra, elettrica, acustica, acustiche perché ne ho più di una, mentre il piano lo sto imparando proprio in questi mesi, quindi siccome la canzone che sto per eseguirvi è fatta con il pianoforte, mi sono dovuto tirare giù tutta la parte. Per darvi un piccolo antipasto, un piccolo appetizer, ne ho pubblicato un frammento sugli shorts e sul mio canale TikTok. Vi è piaciuto particolarmente e quindi ho deciso di cimentarmi nella prova completa. Signore e signori, ladies and gentlemen, another love di Tomodel in versione italiana. Ti porterai ovunque, puoi credermi, ma è così freddo e restiamo qui. Ho preso quei narcisi che ami tu, però so che non fioriranno più. E vorrei baciarti, farti ridere, ma non ho sogni da dividere. E vorrei amarti, saper piangere, ho perso tutte le lacrime. Per un altro amore, un altro amore, non ho più lacrime. Per un altro amore, un altro amore, non ho più lacrime. Se ti fanno del male, combatterò con queste mani che si spezzano. Userò la voce, per te griderai, finché avrò fiato, finché resterai. E vorrei un pezzo che parli di noi, e non di un cuore che non avrà mai. E vorrei amarti, saper piangere. Ho perso tutte le lacrime, per un altro amore, un altro amore, non ho più lacrime. Per un altro amore, un altro amore, non ho più lacrime. E vorrei un pezzo che parli di noi, e non di un cuore che non avrà mai. E vorrei amarti, saper piangere, ho perso tutte le lacrime. Per un altro amore, un altro amore, non ho più lacrime. Per un altro amore, un altro amore, non ho più lacrime. Spero vi sia piaciuta, se così fosse, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Magari scrivendomi anche un'italiana che vorreste sentire e che non ho ancora fatto. Mettete mi piace e condividete il video con la maggior parte di persone possibili nell'universo. Se sei qua per la prima volta dove sei stato o stata tutto questo tempo, mi raccomando, iscriviti al canale, attivando la campanellina per sapere quando esce un nuovo video. Vatti a vedere tutte le vecchie italiane. Siamo quasi arrivati a 100, ragazzi. Porca miseria. Io direi che questa prova spero di averla superata, ma fatemelo sapere voi. Noi ci vediamo il prossimo video. Un bacio dal vostro canta youtuber. Ciao a tutti. Grazie a tutti.